Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni in Senato oggi per le comunicazioni dice che diminuiscono i dispersi in mare e pertanto diminuiscono anche i decessi. È vero quello che dice Meloni. Sì, con il calo degli sbarchi sono diminuiti anche i dispersi in mare, mentre la sinistra, i suoi esponenti, i suoi intellettuali, l'intelligenza, come viene chiamata di sinistra, è da molto tempo che racconta una storia che non esiste. Uno dei principali che raccontava la storia che non esiste è proprio Roberto Saviano, dove raccontavano che sono aumentati i dispersi in mare con Salvini e Meloni. Perché sì, si parte da Salvini. Quando Salvini aveva ridotto, era arrivato a ridurre del 75% gli arrivi, a sinistra dicevano che aumentavano i dispersi. Era una bugia bella e buona, raccontata solo perché non sapevano che fare e si arrampicavano sui vetri, non sapevano come denigrare i risultati di Salvini e allora sono arrivati i processi e la denigrazione. Con lui aumento dei dispersi in mare. Con la Meloni cercano di fare la stessa cosa. Che vuol dire? Che non sanno come camuffare i risultati della Meloni in campo di immigrazione illegale e allora vanno di inventiva, praticamente inventano completamente dicendo che con Meloni dispersi in mare aumentano. Non sanno come manipolare il loro elettorato e allora vanno di inventiva totale, completamente, perché è assolutamente spiegabile in maniera assolutamente elementare. Se partono meno persone vuol dire che arrivano meno persone e vuol dire anche che nel tragitto ci sono meno dispersi. È una cosa matematica. Se partono al posto che in 100 partono in 38 perché diminuisce del 62, 65, 67 per cento la partenza, meno partono, meno arrivano e meno problemi ci sono nella traversata. È una cosa elementare che puoi anche fare con la calcolatrice. Secondo i dati raccolti così dal progetto Missing Migrants curato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dal 1 gennaio al 14 ottobre 2024 sono andate disperse 1.253 persone nel tentativo di attraversare la rotta centrale nel Mar Mediterraneo, quello che separa l'Italia dalle coste del Nord Africa. Nello stesso periodo dell'anno scorso i dispersi sono stati 2.286 mentre nel 2022 1.273. Quindi rispetto al 2022 c'è meno 20 persone e rispetto al 2022 si parla di 1.33 persone in meno. 1.33 persone in meno. Questi sono i risultati della politica migratoria di Giorgia Meloni. Intanto, come vi stavo dicendo, i numeri vengono dati dalla Central Mediterranean Immigration Route inserite il 1 gennaio nella data min e il 15 ottobre nella data max nella sezione incident date. Quindi non sono dei dati che sono stati inventati, ipotizzati, scritti a caso da Giorgia Meloni o dal governo, ma sono dati che arrivano da delle organizzazioni internazionali, quindi non arrivano dal partito di Giorgia Meloni, non arrivano dagli amici di Giorgia Meloni i dati, ma arrivano da organizzazioni internazionali, pertanto difficilmente smentibili da una sinistra livorosa, rancorosa che cerca di denigrare e sminuire i risultati che sono inconfutabili da parte del governo. Intanto, la Meloni annuncia che nel 2024 la percentuale di sbarchi di immigrati illegali è diminuita del 60% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022. Quello che dice anche in questo caso la Meloni è vero, secondo i dati aggiornati dal Ministero dell'Interno, dal 1 gennaio al 14 ottobre sono sbarcati in Italia 53.324 migranti, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso c'è stato un calo del 61,9%, mentre rispetto allo stesso periodo del 2022 il calo è stato del 29% circa. Allora nel 2022 gli sbarchi fino al 14 ottobre sono stati 75.031, nel 2023 sono stati 139.946, nel 2024 sono 53.324. Pertanto abbiamo circa 80-90.000 in meno rispetto al 2023 e circa 22.000 in meno rispetto al 2022. La fonte è il Ministero dell'Interno con l'andamento degli sbarchi dal 1 gennaio al 14 ottobre del 2022, 2023 e 2024. Grazie a tutti per avermi ascoltato, parleremo nei prossimi video sempre delle comunicazioni che ci sono state in Senato, grazie a tutti, ci vediamo tra una ventina di minuti, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate almeno un video al giorno e poi ci sono anche questi video caricati su Facebook nella pagina che si chiama Luca Vincitore, una volta si chiamava Teleitalia. Grazie nuovamente e a presto. Grazie.